Immobilismo amministrativo, questa l'accusa che i consiglieri comunali di centro-sinistra rivolgono alla giunta Masci, che secondo la minoranza naviga oggi a vista senza dei veri obiettivi e portando avanti solo l'ordinaria amministrazione e tralasciando invece quelli che sono i veri problemi della città. Il centro-sinistra chiede alla maggioranza per il bene di Pescara di tornare a governare, lasciando da parte liti e beghe tra i partiti. Il comune è bloccato ormai da tre mesi, abbiamo visto tutte le delibere di giunta approvate in questi ultimi tre mesi, sono per la stragrande maggioranza delibere ordinarie di lavori di sommorgenza o di resistenze ai ricorsi per le multe. Quindi sostanzialmente oggi il comune è bloccato, il consiglio comunale si riunisce soltanto per assistere alle litigate furibonde dentro la maggioranza di centro-destra, ma sul piano delle cose da fare il comune è completamente bloccato e questo sta dimostrando che purtroppo questa maggioranza sta gestendo la sua crisi interna sulle spalle dei pescaresi e far tendo a pagare alla città un prezzo inondito di un blocco sostanzialmente di tutti i progetti che possono essere portati avanti. È caduta l'alibi della pandemia perché rispetto al nulla assoluto che ha fatto questa amministrazione in questi anni, ora non ha più la scusa di dover operare unicamente e odiare l'amministrazione. Pescara è una città grande che ha tante esigenze e tanti settori molto diversi tra loro che meritano attenzione. C'è una risposta di niente in tutti questi settori e non si può più dire che purtroppo non si può operare per questa esatta limitazione. È caduto questo velo e questa amministrazione sta lasciando Pescara all'anguire nel nulla. La città è sporca, non c'è nessun tipo di programmazione di nessun tipo, culturale, turistica, eccetera. Sono settori dimenticati da questa amministrazione e anche sulle cose più semplici e più utili alla città c'è una disattenzione totale. Io penso che queste persone debbano tornare a ricordarsi che amministrano la città e devono essere attivi. Non lo sono loro, lo saremo noi.